Ciao a tutti, sono qui a Milano e sto aspettando una persona, sto aspettando che esca dalla metropolitana una persona che conosco, con la quale parlo molto spesso, ma che ancora non ho mai visto di persona quindi oggi ci incontreremo per la prima volta e documenterò l'accaduto, aspettiamo Ciao ragazzi, ecco, mi è appena arrivato in questo istante proprio Quindi proprio la reaction in diretta In diretta Vabbè, documentiamo dopo, ciao ciao A tra poco Ce l'ama troppo, lo troppo bello Quello sono io, il bruttono troppo Ma no Comunque veramente ragazzi, invenuti Vabbè, lasciamo perdere l'acqua del navigo qua dentro C'è Stefano che fa il blog Non lo immagino, chissà cosa c'è qua dentro, inutanti Organismi radioattivi Cioè Stefano che vuole registrare un video, dove sto guardando, io non so dove si guarda Che vuole registrare un video ASMR, anche io lo vorrei registrare, vediamo se qui si può fare qualcosa Anche se in realtà non abbiamo il microfono L'atmosfera è molto molto bella L'atmosfera è proprio carina Sì, no, è stupendo, questo è proprio da ASMR Infatti secondo me qui uno viene per rilassarsi proprio Poi c'è proprio il rumore dell'acqua Cioè, proprio, mi piace come posto, ci sta Bello Sì Abbiamo scelto un bel posto Ragazzi, stiamo facendo un ASMR, il posto è molto carino È tipo un ponticello, un molo in stile Dawson Creek proprio C'è probabilmente quello, Dawson Creek E vediamo cosa esce, penso comunque è un posto bello rilassante, molto carino Siamo proprio immersi nella natura Sì Ci sono le persone che fanno carona e quindi sentirete molto water sound Secondo me sentiranno più rumori delle macchine sound Sì, infatti Un epic fail ASMR Ci sta però un epic fail ASMR, un nuovo contenuto, un nuovo format Questo ragazzo è un genio, ha una mente molto creativa Grazie Abbiamo avuto un'idea fantastica Perfò, e infatti stavamo parlando proprio di colori di capelli E ci sta un guarda di vera, hai ragione, sono sul chiaro, c'è ragione te Stiamo dicendo che abbiamo praticamente lo stesso colore di capelli al naturale Eh sì Anche se non si vede adesso il nuovo Ho duemila colori in testa Comunque sì, il safan è cenere anche io E stavo pensando di andare in un posto, tipo una fornitura per farlo chiaro Per forza, così Oltre a vedere i colori che a noi ci piacciono un casino Con le ciocchettine le sfreghiamo E viene qualcosa di, come dico io, che non esiste ASMRroso Io li dico così ASMRroso Eh, io lo dico ASMRroso Ho inventato sta roba Vabbè Andiamo a vedere Ok Sono dei capelli quelli Stiamo facendo una tinta Una tinta bionda Ah ah Dai che ce la facciamo Il mio navigatore è appazzito totalmente Ha cominciato a girare la bussola Abbiamo già anche adocchiato vari posti per mangiare Sì Sempre fame Io ho sempre fame E stavano pure Però qui lo dice a me Vabbè, faremo una bella buffata Infatti, un mukbang viene anche fuori Grazie Per tutto un ASMR di tu oggi Sì Salvo Continua a parlare Po' parlare? No, devo fame Devo andare in quel sushi lì Quello là vicino della mia amica Qua si parla di mangiare ovviamente Come sempre Però si parla piano qua Si parla di mangiare come sempre E adesso cerchiamo Qualcosa Su sciamo C'è uno fame all'oceano E' bellissimo questo posto Di una specie di Giardino incantato Non so Cos'è Ma che bello Prendi anche i posti Eh aspetta Come si fa? Non lo so fare Devo fare tipo così Eh ma non lo so girare Ecco così Ecco Avete visto qualcosa? Oddio Oddio Sono tutti un brivido di ASMR Poi giochi sempre con quel cosiddio Infatti Ma che Ma cura te Cos'è questo? Un cirash Hai scoperto cos'è il cirash? Ora si Cosa credivi che fosse? Io pensavo che C'era solamente i pezzi di boccuccini di carne Invece no Invece no proprio tutto l'arsenale Lo devi mangiare per forza Molto bene Auguri Ragazzi Siamo arrivati alla fine di questa giornata Ci siamo stra divertiti Le ore sono passate velocissime Vi mando un bacione Ci salutiamo e vi salutiamo Sì infatti Scusateci se passiamo da un post all'altro Ma ci siamo talmente divertiti Che non l'abbiamo neanche tanto vloggato Vi mandiamo un bacione grande Ci vediamo la prossima volta La prossima volta Ciao tesori e tesori Ciao Ciao